Qual è secondo te la forza delle donne? Ma sai, le donne hanno una marcia in più, le donne essendo madri hanno quella capacità di saper accogliere, quella capacità di amare e donare la propria vita. Le donne hanno una forza interiore straordinaria e il mondo sarebbe sicuramente migliore se fosse gestito dalle donne. La donna essendo madre è sicuramente avvolgente, è sicuramente comprensiva e ama oltre ogni limite, oltre ogni confine. E invece qual è la qualità vincente di Beppe Convertini? Questo mi dovrebbe chiederlo agli altri, non so quale sia la qualità vincente di Beppe Convertini, perché chiaramente credo di essere una persona normale, diciamo uno di provincia, però quella provincia ricca di valori, quella provincia autentica, la provincia che è legata alla sua terra, che ama la propria famiglia. Grazie Beppe. Grazie a te. Grazie.